Questo è tutto normale, tutti quanti fanno questi giochetti, tutti giocano a pallone così, incredibile, tutto football qua in Brasile, a Rio. Anche a Chicago giocano a football, ma a differenza di Rio de Janeiro, qua a Chicago come potete vedere sono più incapaci, ecco qua, incapaci, incapaci, ecco qua, non siamo più a Rio de Janeiro, siamo a Chicago di giorno.